Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Domenica scorsa durante le celebrazioni eucaristiche è stato dato un annuncio. D'ora in avanti le messe della settimana saranno celebrate senza il concorso di popolo, soltanto quelle domenicali avranno la presenza dei fedeli. Per cercare di capire, anche se è intuibile, ma per cercare di capire meglio le motivazioni di questa decisione abbiamo con noi in studio padre Franco Moscone, l'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, che è anche il presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e il direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Bentornato fra noi padre Franco. Grazie e del benvenuto e un saluto a tutti, in modo particolare alle sorelle e ai fratelli dei gruppi di preghiera, ai devoti di Padre Pio che ci stanno ascoltando. Mi rendo conto che mi è toccato compiere un'azione un po' di tipo storico, la chiusura del santuario e degli ambienti dei luoghi del fondatore, cosa che non era mai successa, penso, negli ultimi decenni, non era mai successa dopo dalla morte di San Pio nel 1968. La situazione attuale è tale che obbliga a prendere delle decisioni pesanti e apparentemente, dico tra virgolette, contrarie a quelle che è la prassi religiosa comune. Il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, che è il testo principale del pontificato e la guida per la Chiesa in questi anni del nuovo millennio e nel futuro che ci sta davanti e quindi è la guida importantissima in questo periodo di pandemia, ha sottolineato un principio fondamentale, che la realtà è superiore all'idea e che dobbiamo essere innanzitutto fedeli e responsabili alla realtà. Anche è superiore alle idee più belle possibili che ci possano venire in mente, è superiore alle stesse idee di tipo religioso, a quelle di un riferimento logico di un pensiero che segue. Dobbiamo rispettare la realtà, Dio è nella realtà e soprattutto nella realtà ci siamo noi. Di fronte a questa situazione di pandemia non ci tocca salvare, io lo dico ai miei preti, il credo, ma i credenti, non ci tocca salvare la pratica, ma i praticanti. Sarebbe come dire che come pastore non vado alla ricerca delle pecore, delle pecore smarrite, non cerco di proteggerle, ma mi accontento di proteggere i libri che studiano la pastorale o la teologia. Di questi non ce ne facciamo nulla in questo momento, sono strumenti a servizio del popolo di Dio, dei credenti, dei praticanti. Quindi la chiusura, atto apparentemente duro, potente, è uno strumento di salvaguardia e di rispetto di coerenza con la realtà. E credo che soprattutto in questo momento i gruppi di preghiera di padre Pio, mai come in questo momento, possano essere dalle loro case veri cenacoli di fede e di carità, come ha voluto e ha pensato San Pio da Pietralcina. Ecco, ho ricevuto alcune email che mi accusano quasi di essere miscredente o blasfemo per quanto deciso. Ecco, vorrei dire che può darsi che in me ci sia qualcosa del genere e che un po' tutti soffriamo di crisi di fede, ma la fede non è l'adesione a delle teorie, la fede è l'adesione alla realtà e responsabilità credente nella realtà da discepoli del Signore, seguendo il Signore che in questo momento sta soffrendo lui negli ammalati, in chi li cura, ecco, e seguire il Signore nella realtà. E se seguire il Signore nella realtà ci chiede anche di sospendere alcune pratiche, è nostro dovere compierlo. Ecco, poi la situazione in cui sono venuti a trovarsi, la comunità religiosa dei frati Capuccini che voglio salutare di cuore, insomma, attraverso la TV e dire la vicinanza mia e di tutti i gruppi di preghiera. È una situazione, direi, veramente drammatica. Praticamente tutta la comunità, eccetto tre fratelli, sono al momento contagiati, molti con sintomi, ecco, e non è possibile mantenere il servizio come avveniva prima. E quindi è stato un atto d'obbligo, ecco, chiudere gli ambienti del santuario e ridurre, rendere, finché ci siamo riusciti lungo la settimana, abbiamo permesso anche la celebrazione della Santissima Eucaristia con la presenza del popolo. In questo momento non ce la facciamo ed è giusto non andare a cercare altre persone che le sostituiscano. Tutta la provincia religiosa ha grossi problemi perché anche in altre comunità ci sono fratelli contagiati e quindi che non possono venire ad aiutare in santuario. Ecco, io credo che confede, dobbiamo vedere questa situazione che il santuario vive e l'ambiente vive, come un ritorno al 1918, quando padre Pio stesso e la sua piccola comunità, allora non famosa come quella di adesso, qui a San Giovanni Rotondo, fu contagiata dalla pestilenza, dall'epidemia così chiamata allora la spagnola, e di cui lui stesso dice e ne parla nelle lettere. È quasi un purificarci, è quasi un tornare là, ecco dopo aver vissuto gli anni grandi e belli e forse entusiasti della beatificazione, della canonizzazione, del grande giubileo e che ci avevano forse fatto pensare troppo all'entusiasmo e alla grandezza, alla forza, tra virgolette, della nostra espressione testimonianza di fede, ecco questa pandemia ci riporta al 1918, al ritornare a Gesù crocifisso nella carne e nella nostra carne, crocifisso nella comunità stessa che sta guidando e portando avanti il santuario di padre Pio in questi decenni e in questo momento. Ma ritornare lì, ecco non significa perdere la fede, anzi a mio giudizio significa andarla a decantare maggiormente, a purificare e a dare una testimonianza ancora più forte e un ripartire in qualche modo dal calvario perché la risurrezione ridica la forza, ridica la forza della nostra fede. Ma questo lo possiamo fare solo nella nostra carne e credo che in questo momento la comunità che guida il santuario lo sta vivendo e lo sta facendo e chi è a servizio di casa sollievo sta vivendo la medesima realtà. Ecco quindi questo è il motivo della decisione presa ieri e presa anche dopo aver sentito, ovviamente per telefono, non direttamente con il cellulare, il rettore del santuario e il provinciale che tra l'altro saluto perché è colpito dal Covid anche in una forma abbastanza problematica, sintomaticamente grave. Con la differenza rispetto al 1918 che la tecnologia permette perlomeno di portare le celebrazioni eucaristiche nelle case, certo non è la partecipazione vera e propria che il concilio ci ha raccomandato, però che valore ha il fatto che la gente possa partecipare in qualche modo alle celebrazioni eucaristiche attraverso la nostra emittente? L'eucaristia anche se è celebrata dal prete da solo è universale, è a servizio di tutta la creazione, è la salvezza della creazione, è il portare il pane e il sangue di Cristo a beneficio della creazione. Uno dei testi più belli che io abbia letto nella mia vita è una riflessione breve di Teilhard de Chardin durante la Prima Guerra Mondiale, in cui, adesso cito più o meno a memoria, lui soldato, in cui dice non ho il pane, non ho il vino per celebrare in questo momento l'eucaristia, qui in mezzo alla trincea, allora stendo le mie mani sul mondo per santificare attraverso lo Spirito il mondo intero. Ecco, l'eucaristia anche celebrata da sola è questo stendere le mani di Dio, del Signore, e sul mondo intero, sull'intera creazione. Quindi è chiaro che l'eucaristia va vissuta ed è fatta per essere in persona, ma oggi abbiamo anche delle possibilità e allora utilizziamole, almeno in alcuni momenti, per far crescere in noi questo desiderio dell'eucaristia, questo desiderio della vicinanza a Gesù corpo e sangue eucaristico. E sapendo che quel gesto che viene compiuto da quel sacerdote, e in questo caso saranno veramente pochi che celebrano, ma speriamo riescano a garantire le tre celebrazioni dalla cripta di Padre Pio, trasmesso per TV, ricordatevi che sono per il mondo intero, per l'intera creazione, e ovviamente in primis per la Chiesa e per chi si considera discepolo e credente. Quindi non si perde nulla, ecco, la si sta in qualche modo vivendo in modo diverso, forse con più sofferenza. Però se questa mancanza fa crescere in noi il desiderio, ecco, quando il tutto, tra virgolette, sarà in qualche modo superato, sarà quello il momento in cui sarà provato, se veramente io ci tenevo all'eucaristia, se la polemica che magari faccio in questo momento aveva nel mio cuore la verità o era pura polemica. Se è cresciuto il desiderio, allora ci sarà un ritorno all'eucaristia in presenza strepitoso e meraviglioso. E noi ci auguriamo di poterci rivedere proprio in questi studi, quando tutto sarà finito, per poter riannunciare che si tornerà a vedere Gesù eucaristico in presenza, a potersi nutrire di Lui. Ed è con questa speranza che le lascio l'ultima parola per un augurio di questo genere. Io sono convinto che si ritornerà, non sappiamo quando. Ecco, le pandemie ce lo insegna la storia della medicina, delle pandemie, sono una serie di moto ondoso, non sappiamo quante siano le onde, ma alla fine il mare si calmerà. Ecco, dobbiamo vivere, siamo chiamati a vivere questo periodo di turbolenza e di tempesta, ma insieme, insieme, responsabilmente, con fede e speranza, ce la faremo. Ce la faremo ad arrivare all'altra sponda. Ecco, un altro testo bellissimo, soprattutto del Vangelo di Marco, Gesù dice, prendete il largo e raggiungiamo l'altra sponda. È la sponda, ecco, della vittoria e della risurrezione. È possibile, anche se lo stiamo vivendo con un moto ondoso non indifferente. Ce la faremo, ma con responsabilità, con fede e con speranza. Grazie Padre Franco e grazie a voi amici telespettatori per averci seguito.